È il giorno della rivoluzione, più obbligata che voluta, di fatto però esistente. Solo sei dei titolari della stagione partono in campo, gli altri sono partiti invece fisicamente da San Giovanni. Bernini all'esordio come trainer in D, manda in campo anche chi non si è mai visto, prima da titolare per i vari Bettoni, Girolami, Vitale e Mariani. Di fronte allo Scandicci, allenato da Brachi, che ha preso otto reti nelle ultime uscite, staziona comunque alle soglie della zona play-off. Cronaca concentrata interamente nella ripresa, dopo una prima frazione, nella quale ha regnato l'assoluto equilibrio tra le parti. Secondo, errato disimpegno della difesa azzurra, arriva incornando il numero 11 Bandini, il cui colpo di testa non in squadra lo specchio della porta. Cresce lo Scandicci, stessa sorte dell'azione precedente al sinistro da fuori aria del medesimo attaccante, che esce dai pali difesi da Bettoni. Poi da un corner per gli azzurri nasce una ripartenza per lo Scandicci, che potrebbe costare carissima. Vitale, infatti, è costretto ad arrendersi per crampi dall'inseguire l'avversario. Poderoso cost-to-cost operato da Visibelli, la cui conclusione termina oltre il montante opposto. Ventesimo, stavolta la ripartenza è del Marzocco, diagonale dalla sinistra da parte di Morbidelli. Pellegrini, a mani aperte, risponde presente. Ventottesimo, Martini su calcio piazzato sblocca il risultato. La prima palla ferma è, infatti, deviata dalla barriera con un braccio secondo il... Grazie. Grazie. Grazie.